sentite l'audio? benvenuti alla Crazy Four Rally lo sentite? datemi in feedback una gara all'ultimo sangue allora partiamo da una cosa è la prima cosa che voglio dire Bud Spencer in questo caso è interpretato da Edoardo Pesce Edoardo Pesce è un bravissimo attore abbiamo visto in Dogman guardatelo è bravo è bravo è un grande attore merita veramente ha fatto anche Alberto Sordi quindi grande però c'è un problema c'è un però non puoi eguagliare Bud Spencer non perché quel classico discorso era meglio prima adesso tutto è brutto Bud Spencer era un uomo costruito dal tempo aveva un'espressione lui l'ha sempre detto io sono diventato attore in tarda età io nasco personaggio perché era alto quasi due metri perché aveva gli occhi quasi chiusi non ci vedeva bene ma quello faceva il personaggio faceva il carisma doppiato da Glauco onorato c'era tutto un costrutto che anche se quei film sembravano film americani per il tempo erano grosse produzioni non si prendevano sul serio mentre questo trailer se vedete dall'approccio vorrebbe sembrare un film di Hollywood e già quei sbagli secondo me a mio modesto parere perché ti prendi sul serio e i film di Bud Spencer e Terence Hill non si prendevano solo e ricordiamo perché siamo qui un Tune Buggy del 1974 cioè non è che tu guardi lui e dici cazzo lui è tanto più brutto di Terence Hill perché cosa succedeva? che i film di Bud Spencer e Terence Hill erano divertenti perché lui era il burbero brutto tra virgolette e quello era il belloccio e ragazzi io lo dico a etero e secondo me ha più valore nel senso Terence Hill è un bel uomo è un bellissimo uomo ragazzi un fascino incredibile e quindi c'era questo contrasto perché tu vedevi un bel ragazzo dagli occhi azzurri dal fisico statuario con un orso e nascevano le gag da questo doppiato da pieno l'occhi Terence Hill ehi per caso hai visto passare di qui un gorillone? capito funzionava per quell'alchimia e perché loro erano veramente contrastanti qui invece guarda Terence Hill tra virgolette l'attore che lo fa non è tanto bello è un normalissimo attore magro e Edoardo Pesce un po' più grosso cioè sono non c'è questo contrasto tra i due persone non li vedi e dici questi sono troppo diversi si odiano soprattutto si è un bell'uomo anche adesso da anziano ebbè ebbè possiamo riprenderci insieme come vecchi peraltro lui sentite guardate non scandisce neanche bene le battute possiamo riprenderci insieme possiamo riprenderci insieme vecchi tempi ci prova eh però capite che Terence Hill si faceva doppiare da Pinocchi la voce di James Bond Sean Connery la voce di di Marlon Brando nel padrino Pinolocchi ragazzi c'era quell'approccio lì no Pinolocchi aveva quella parlata veloce con la dizione perfetta per tutti i doppiatori Pinolocchi è un esempio cioè parlava velocissimo non ci è capita niente eh aspetta che te lo rifaccio cioè parlava velocissimo e non mi vengono in mente molte battute ma era tutto fantastico avete due giorni per filmare andarmene torsillo ha perso la pazienza si vuole prendere la carriola e a noi vuole prendere la terra Alessandra Mastronardi brava attrice ha fatto tante cose importanti anzi ottimo curriculum però non lo so anche lei mi sembra fuori posto ma perché forse è tu però ragazzi sono pareri personali ovviamente io lo vedrò il film voglio farmi un'idea completa ma già il trailer in memoria di quei tempi potevano farli doppiare a voglia se voi ci ridate la nostra carriola noi ce ne andiamo come se niente fosse successo si parla con la sbiascicatura romana noi ce ne andiamo mezzo sembra un po' napoletano un po' romano altrimenti che fate c'è lui Christian De Sica come cattivo ragazzi altrimenti che fate per carità si vede che si è impegnato è dimagrito l'hanno messo l'hanno inquadrato un po' ragazzi è l'operazione commerciale che non mi convince questa cosa se la vedono i tedeschi peraltro guardate sto fermo immagine guardate quello che fa Terence Hill quanto poco è figo quanto poco è carismatico Edoardo Pesce si proprio perché ci prova è trasformista lui ci sta provando ma quello mi dispiace non me ne voglia ma non avrà mai guardate che sguardo tagliente che c'è qui Terence Hill guardate Terence Hill aveva proprio sta faccia da volpe infatti il regista diceva sempre questo lui è la volpe lui è sono come il gatto col topo Terence Hill aveva la faccia di quello che la combinava grossa del furbacchione questo non ce l'ha guarda in ogni inquadratura non è mai fuori posto Terence Hill l'inquadratura funziona e fai un paragone col passato bisogna stare avanti perché lo so ci saranno anche questi ma sempre a criticare ma è sempre a criticare ma cavolo Terence Hill non me lo sostituisci così Terence Hill doveva fare Tex Wheeler se non erro Terence Hill doveva pure fare Rambo aneddoto che vuole è un attore che già da giovane guardate non puoi cannarmi un Terence Hill devi fare bene Edoardo Pesce forse se lo ingrassavano di più gli facevano una pettinatura più simile gli annerivano un po' la barba lo facevi stare un po' di più Pesce ma lui no il problema è che Bud e Terence funzionavano per l'epoca oggi riproporre questi personaggi riproporre questi personaggi e le loro situazioni risulta fiacco allora se tu mantieni invariato lo spirito di una cosa quindi la leggerezza fermo restando che niente li supera è ovvio allora l'operazione riesce è come fare un reboot delle tartarughe ninja ma mantenere l'atmosfera non snaturare purtroppo qui l'ho fatto per in occasione dell'anniversario però era meglio fare un docu film in occasione dell'anniversario ci hanno voluto fare il film va bene però il casting deve essere attento allora io attore italiano che potrebbe fare in Terence Hill oh ce l'ho Alessandro Borghi lui lui lo può fare lui avrebbe potuto lui avrebbe potuto lui aveva ecco lui ce l'ha lui quella faccia da volpe quella quella bellezza lì ce l'ha lui lo può fare ragazzi dai tutto sommato eh vi prendo un'altra foto eh facciamo solo Terence Hill ah mio tutto sommato no che lo fai stare guardalo qui è figo è figo cioè è un attore che si lascia si lascia plasmare però mi fa pure tenere cioè fa simpatia per chi si vede che non c'entra niente ragazzi guardate qua ah guardate c'è eh eh c'è è lì è lì la senti quell'alchimia non me lo puoi sbagliare per Bud Spencer era un po' più difficile quindi Edoardo Pesce lo dovevano fare ingrassare un po' di più forse lui non poteva perché aveva altri film quindi chiaramente il budget sicuramente non era alto però io lo puoi far stare proprio Bud Spencer non lo puoi sostituire non è non esiste un altro attore italiano con quel fisico puoi fare come fanno alcuni americani che alle volte pur di dare una somiglianza prendono stranieri eh cioè questo lo puoi fare vedi con i baffoni a carisma tu gli puoi mettere qualsiasi pettino a carisma a carisma guardate qui quindi vabbè Bud Spencer per citare Boris facevano ingrassare il favino di 20 kg lo facevano fare a lui ma guarda che il favino l'avrebbe fatto l'avrebbe fatto bene anche il cazzotto perde si vede che è una citazione l'hanno fatto volutamente epico per dire cazzo sta arrivando il mitico pugno a martello però perde tutto il senso il bello di quel pugno a martello è che era spontaneo era un proprio una cosa che tu non ti aspettavi e ridevi per quello guarda anche in un questo fermo immagine Edoardo Pesce c'è? quello no cioè tu gli fermi ma tu fermi ogni frame ma è lui non c'è questo dovrebbe essere De Rensil ma dov'è non è mi deve perdonare come si chiama mi odierà mi odierà Alessandro Roia Drago grazie grazie Drago hai bottato sul tempo vediamo che ha fatto allora sicuramente è un grande attore sicuramente ha fatto le sue però funziona qui la vedo la carriera c'è la carriera c'è che non c'è però Alessandro non avercene a male non hai questo tipo di bellezza la bellezza dell'uomo fascinoso nord lo so l'avranno convinto i registi che hanno più voce in capitolo di me che non è vero che ce l'hai e quindi potrai dire ma tu chi sei per dire questo però pure Donald Trump paradossale che fonte che fonte vabbè Alfredo come stai? mi sento più i piedi naturale tesoro mio sono due ore che si chiuse in un frigorifero recitato poi con l'accento romano giasta cosa un'operazione commemorativa leggiamo i commenti unico finale accettabile tra insieme che me ne ha tutti il regista compreso quello vero e sentivo il bisogno? no continuerò a guardare l'originale certi film mitici non hanno bisogno di rebutto remake quando si pensa che il cinema italiano abbia raggiunto il fondo per iniziare finalmente a risalire ecco che si ricomincia nuovamente a scavare a rendere certi film immortali non è la storia ma gli attori Carlo Pedersoli non sarà mai replicabile in alcun non basta una di un buggy rossa e qualche frase rievocativa per farci sorridere piuttosto che vedere gli schiaffoni in slow motion alla Matrix mi mangio una padella di fagioli che è sicuramente un po' migliore al buon pad quello che più mi fa storcere il naso è che almeno dal trailer non si respira neanche l'1% di quell'atmosfera scanzonata che è propria di tutti i film di Bill Spencer e Terrence oh aspetto il film mi viene da piangere meno male l'originale non ce lo potrà mai togliere nessuno e ce lo possiamo rivedere quando vogliamo e quante volte vogliamo a differenza di questo che è un vero è proprio sacrilegio e merita la fine che farà cioè l'oblio ragazzi i commenti sono tutti così vergogna come potete storpiare un capolavoro immortale oggi non so parlare se lo avessero intitolato Natale a Bud Spencer e Fury Road sarebbe stato un capolavoro occasione mancata non c'è bisogno di vedere il film per poter dire che siamo già arrabbiati la persona cresciuta vabbè sì questo è lungo vorrei sommersamente ricordare amici miei come tutto è iniziato un flop clamoroso abbiamo veramente bisogno di profanare periodicamente i film che sono nella storia del cinema italiano se lo avessero fatto con Trinità sarei già sceso in piatto so cosa farò il 23 marzo cucinerò salsiccia riempirò il frigo di birra e assieme ai miei figli guarderò l'unico vero altrimenti ci arrabbiamo l'unico vero l'unico vero l'unico vero Grazie a tutti